Questo derby con il Benevento proveremo a rialzarci subito, consapevoli che incontriamo una squadra che al momento sta in salute. E' la squadra probabilmente anche la vera sorpresa del campionato e più ancora del Cittadella, considerando le vittorie ottenute e gli avversari affrontati. La vera rivelazione non direi in organico a fior di giocatori, giocatori di elevate capacità e esperienza, però le partite vanno giocate sul campo e quindi azzardare pronostico nel senso o nell'altro non me la sento. E' una partita aperta, è una partita dove andiamo a incontrare una squadra forte che ha avuto alcune partite dove non ha fatto molto bene. Io come vi ho sempre detto in questa prima parte è difficile fare un'analisi, io credo che molto dipenderà da noi sapendo che si troverà un bel match, nel senso ci sarà pubblico, ci sarà la pressione giusta di un derby, di una partita. Quindi noi dobbiamo avere la consapevolezza e la forza e la voglia di affrontare con questa partita, con il piglio di una squadra vera. Il campionato della Serie B tanto è talmente lungo e spero ci siano ancora occasioni. È un campionato bello, ricco di momenti positivi e negativi che una squadra può avere, quindi sicuramente ci sarà spazio per me e per i ragazzi che magari fino ad ora ne hanno avuto meno rispetto ad altri.